Una spiaggia di portici mette a disposizione diversi servizi per i bagnanti e per i disabili. Ci è andata Anna Testa. Le temperature roventi di queste settimane hanno affollato i lidi balneari della costa vesuviana. Tante le iniziative da Ercolano a Portici per consentire l'accesso anche alle persone disabili. Avere la possibilità di godersi il mare è qualcosa molto importante per la disabilità, per i disabili. Siamo alle Mortelle, spiaggia libera super attrezzata, zona Granatello a Portici. Una spiaggia gratuita e libera con docce gratuite, servizi igienici, passerelle dedicate, sette giorni su sette. Credo che sia un'idea di inclusione che fa i conti con gli obiettivi che un'amministrazione e le città vogliono realizzare. Avete anche altri progetti relativi alle persone diversamente abili? Sì, avremo un parcheggio con 250 posti auto sul lungomare, con rampe di accesso completamente prive di barriere architettoniche e anche sulle spiagge del lungomare attrezzeremo una spiaggia appositamente dedicata ai disabili. Sabbia vulcanica ed iniziative utili per superare le barriere architettoniche. Ad esempio, questo lettino, come si può vedere, è più alto e serve per accompagnare senza traumi il disabile dalla seggiolina al lettino. È anche più semplice poi trasferirlo sul job che è la seggiola che lo porta al mare.